Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 per un incidente avvenuto al chilometro 337 e 400, al momento ci sono 7 km di coda tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna e 5 km di coda tra Incisa, Reggio e Arezzo in direzione Roma. Per il traffico intenso rallentamenti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna e tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza ci sono 2 km di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestro Fiorentina in direzione Firenze e 2 km di coda tra la Strassigna e Montelupo in direzione Livorno. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Incidente tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest verso Livorno. In A11 incidente tra Capanno Rialto Pascio in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!